Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Ultimamente, e forse sin dall'inizio, sembra si sia parlato soprattutto di un allievo della nuova classe di amici 23 di Maria De Filippi e De Holden Già ben noto per delle hit che aveva letteralmente sfondato, il figliastro di Laura Pausini anche a Canale 5 non ha avuto rivali, almeno fino a oggi Record da sorpresa.Nessuno se lo sarebbe mai immaginato visti i numeri che era abituato a fare già da prima dell'avventura televisiva da Maria De Filippi Eppure in queste ultimissime ore Holden è stato battuto da un suo collega di Amici 23 nella classifica di ascolti su Spotify lasciando tutti di stucco e, soprattutto, il nuovo vincitore Amici 23, record assoluto, ha battuto tutti.Quasi sta parlando di milioni e milioni di ascolti Non certo robetta per talenti giovani come quelli che si stanno facendo conoscere nella storica cassetta all'interno degli studi Mediaset, di Via Tiburtina, a Roma Purtroppo, così è il gioco, ci sono stati momenti duri e motivo di delusione per diversi di loro, che hanno dovuto incassare il colpo Ultima in classifica stella con la sua venere, che ha raggiunto 155.373 ascolti.A seguire Matthew e Fammi con 271.090 ascolti Terzultimo Holly Francisco e Tananai, 427 086, Tusce di Sara 450.778 Quinto posto per Lee Jolie e la sua follia, 482,629 Quarto posto mercoledì Mai di Mio con 906.702 ascolti Terzo sul podio Petit con Che fai, che ha totalizzato 1 445.872 ascolti Punto al secondo, come anticipato, dimmi che non è un addio di Holden con 2 986.540 ed infine il record di Mida e Rosso Fuoco che ha raggiunto quota 3 034.932 ascolti. L'ha superato, se lo merita, o finalmente non ha vinto il raccomandato, Holden è bravo, ma Mida è partito da zero, dai, scrivono diversi fan su Twitter Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video.Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video